La parte più importante della collezione è questa ricerca sui tessuti a doppia faccia di peso estremamente leggero. Un tessuto che è adatto per qualsiasi periodo dell'anno ma in particolar modo siamo riusciti a raggiungere dei pesi per i quali la stagione estiva viene coperta da questi tessuti a doppia faccia per risolvere i problemi dei sbalzi di temperatura che ormai abbiamo anche d'estate pur mantenendo una leggerezza e una funzionalità. In più siamo arrivati a produrre combinazioni di fibre come Vicuna e Baby Kashmir in una faccia la Vicuna e nell'altra Baby Kashmir che consentono di avere una combinazione di prodotto estremamente naturale, unico al mondo e anche di colori che non si sono mai visti. Cioè i colori della Vicuna possibili con i colori che si possono raggiungere in Baby Kashmir. . . . . . Grazie a tutti. La donna loropiana è una donna elegante che fa una ricerca assolutamente personale. Una donna a cui piacciono i colori, sa abbinare i colori in una maniera non povistosa, ma estremamente elegante. È una donna che bisogna continuare a guardare e può continuare a scoprire. Grazie a tutti.